Mondolegno, falegnameria, bricolage, fai da te. Mondolegno offre competenza, idee, progetti e servizi innovativi per la casa, per spazi interni ed esterni. Inoltre la Mondolegno SRL è specializzata nella vendita di elettrodomestici da incasso delle migliori marche, oltre alla vendita dei prodotti di bricolage fai da te ed offre un vasto assortimento di ferramenta per ogni esigenza. Grazie all'utilizzo di macchinari di ultima generazione, esegue lavori di alta precisione e vende tutto ciò che riguarda la pannellatura e il legno grezzo di tutte le essenze. La vendita viene effettuata a privati e grandi aziende. Mondolegno, falegnameria, bricolage, fai da te.